E' giunta l'ora di raccontarvi tutta la verità sul tuo amore Non ho mai avuto il tuo amore, quella era solo un'agenzia che me lo stava obbligando Scusatemi, scusatemi, scusatemi Non ho mai avuto il tuo amore, né niente Questa mia tenuta, questa mia camicia vuol dire soltanto Una cosa No, non sono stato al sushi ragazzi, lo so che paro la gente che lavora al sushi ma no Questa è la mia tenuta per parlarvi di Ilias Maluma Ciao scappati da casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video ragazzi Dedicato a un personaggio che era trash e che adesso è diventato forse spazzatura Ilias Maluma ha di nuovo finto un intervento, un'aggressione Di essere scappato di casa, di vivere per la strada e tante altre cose Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui Sul mio canale così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sulle cose stupide Che vengono fatte da Ilias Maluma Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio, tu che stai guardando questo video Cos'è che devi mettere se vuoi uscire di casa? La mascherina! Ti devi mettere la mascherina, punto! Ah, allora ragazzi, pensavo e speravo di non dover più parlare di questa persona Di non dover più dare ulteriore visibilità ad un personaggio del genere Ma purtroppo in queste giornate, in queste settimane Mi avete mandato tante cose, tante foto, tanti video, tanti screenshot Tantissimi messaggi nei quali mi avete parlato di Ilias Maluma Che ne ha combinata un'altra delle sue Ed ovviamente io non potevo far finta di niente Anche perché ancora una volta si scherza sulla salute, sulle malattie, su tante altre cose Qualche tempo fa vi avevo parlato proprio di lui, di Ilias Maluma Che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi Diciamo che ne ha combinata una più del diavolo Si dice così? Non lo so, forse ne sa una più del diavolo Vabbè, insomma, comunque Ne ha combinate un sacco Ha fatto infastidire, infuocare, arrabbiare, indignare Tutto il popolo del web Perché, se vi ricordate, aveva finto di avere un tumore all'occhio Per sponsorizzare la sua canzone Che poi in realtà è stata cancellata, tolta da YouTube Insomma, è stato veramente un po' un episodio fallimentare Io ve ne avevo parlato e se vi siete persi quel video e forse anche un altro Ve li lascio qui nella i di informazioni Detto questo per oggi, torniamo a parlare di lui, di Ilias Che se fino a qualche tempo fa era un personaggio anche simpatico Trash sicuramente Ma simpatico, cioè finché diceva Ti sbatto al cancello e di qui e di là e faceva le cose Tipo cantava Sere Nere di Tiziano Ferro O faceva le sue scenette della casa di carta in mezzo alla giungla dove abita Insomma, la giungla no, però in mezzo ai parchi dove è vicino a casa sua Andava anche bene Poi però è caduto e scaduto un po' nel cattivo gusto Nel senso che strumentalizzare malattie, tumori e quant'altro Per creare hype, avere visibilità per l'uscita della sua canzone L'ho trovato veramente brutto Tant'è infatti che se prima, diciamo che mi piaceva anche un po' come personaggio trash Perché ci stava, un po' come Follettina Quei personaggi trash che fanno sorridere un po' il pubblico Ecco, se fino a qualche tempo fa ero di questa opinione L'ho completamente cambiata Anche perché lo sapete Scherzare sui tumori quando ci sono persone che perdono la vita E perdono familiari, anche amici Per queste orribili malattie Insomma, l'ho trovato veramente di cattivo gusto E che si poteva largamente evitare Come questi pezzi di fango Che vengono qui a luna di notte con i motorini Che gioia Le marmitte super il c***o Ma comunque, tornando a noi Parliamo ancora di questo tumore finto, inventato All'occhio di Ilias Maluma Perché insomma, tutti quanti noi sapevamo che questo tumore non esisteva Però, fino ad ora, fino ad oggi Una vera e propria smentita da parte di Ilias Maluma Non c'è stata Non si sentiva niente Anzi, forse addirittura era un pochino sparito dai social Ma è tornato alla carica Qualche giorno fa Infatti me lo avete inviato voi Mi avete informato di questo ritorno shock Tra virgolette, insomma Mettiamola così Di Ilias sui social Che a gran voce ha detto Ragazzi, no Mi dispiace Non so se l'ha detto mi dispiace Adesso comunque lo vedremo nelle sue stories Ha detto no Il tumore non c'è mai stato Io sono stato addirittura obbligato Obbligato dalla mia agenzia A fingere questa cosa Per sponsorizzare la mia canzone Questo è quello che è stato detto da Ilias Maluma Che un po' morente così In un video Ha raccontato questa verità Guardate Ciao a tutti Comunque È giunta l'ora di raccontarvi tutta la verità Sul tumore e tutto Perché io non ho mai Non ho mai avuto il tumore Né niente Non l'ho mai avuto È stata un'agenzia a obbligarmi E io sono stato in gioco Perché loro mi hanno detto Se non metti il tumore Noi mettiamo foto tua E video E quindi io ho dovuto Per forza mettergli quelle robe Perché altrimenti Mi avrebbero Fatto in tutte Su tutto Su tutto il mondo Io ho detto di sì E niente Anche per i capelli Io i capelli ce li ho Ce li ho Non li ho mai avuti Non sono Non li ho mai tagliati Io ce li ho i capelli Eccoli qua Eccoli qua i capelli Scusate mi Scusate mi Scusate mi Scusate mi Scusate mi Cioè addirittura si tirano in ballo Foto video intimi Con i quali è stato ricattato Bah io sinceramente Non so se crederci Anche perché una persona Che è capace di far finta Di avere un tumore Per avere visibilità Penso che sia Altrettanto capace Di fare tutto ciò Tutto quello che adesso vedremo Anche per ulteriore visibilità Detto questo Non finisce qui Il racconto di Ilias Infatti continua anche Nelle sue stories Dove ha scritto Questo Ovviamente in un italiano Terribile perché ha scritto Adesso questo che mi è successo Con l'agenzia Con l'agenzia Anche io so parlare Ragazzi Signor mio dio Adesso questo che mi è successo Con l'agenzia Penso di non voler più Continuare su instagram Mi hanno rovinato La vita E parallelamente a tutto questo Sui social È iniziato a circolare Un video super shock Un video che forse Doveva rimanere privato Forse era destinato Non di certo a noi Alle pagine di gossip Però insomma Questo è quello Che è successo Ilias Maluma Ha pubblicato per sbaglio Ha inviato a qualcuno Per sbaglio Bah chi lo sa anche qua Se è veramente per sbaglio Comunque Fatto sta che ha pubblicato Questo video selfie Dedicato alla nonna Sua nonna E le diceva Nonna stai tranquilla Il tumore non era Non era vero insomma Era una cosa inventata E poi parla anche Di una sorta di aggressione Di cui poi parleremo Più avanti Guardate Ciao nonna Sono Ilias Comunque stai tranquilla Non ho mai avuto il tumore Quella era solo un'agenzia Che me lo stava obbligando E niente Però comunque L'altra volta Sono stato aggredito Adesso sta un po' bene Ecco parlando proprio Di questa ennesima Benedetta aggressione Presunta aggressione Nei confronti Di Ilias Maluma Dobbiamo fare Un passo indietro Nel senso che Tanto tempo fa Ilias Maluma Aveva fatto Molto 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 Indignare il popolo del web Per alcune aggressioni Che non erano vere Che erano inventate Denti che sono partiti Che in realtà erano finti Insomma Sono successe veramente Tante cose E non basterebbe Un video intero Per parlare di tutte queste cose Che sono state fatte E che si potevano Largamente evitare Detto questo Comunque L'ennesima presunta Aggressione Ai danni di Ilias Maluma È avvenuta O meglio Sarebbe avvenuta In questi ultimi giorni E a raccontarci Tutto quello che è successo È proprio lui Che morente Sul letto Ci dice Guardate Finalmente Vi posso rivedere Finalmente ci sono Ciao E dopo la pubblicazione Di queste storie Senza fiato Ilias Maluma Ha poi scritto Un lungo messaggio Nel quale ci spiega Un po' meglio Tutto quello che è successo E infatti scrive L'altro giorno Sono stato pestato Da sei ragazzi Alla stazione centrale Di Milano Mi hanno rubato 500 euro Delle scarpe Telefono E hanno tentato anche Di rapinarmi Ma insomma T'hanno rapinato Quindi non è che hanno tentato Di rapinarti Vabbè Ringrazio tutte le forze Dell'ordine Che sono intervenute Sul momento E l'ambulanza Che mi ha portato All'ospedale Mentre quando stavo Quasi per morire Che italiano Wow Ero andato in coma E ora mi sono svegliato Pensavo non ce l'avessi Più fatta Pensavo Che non ce l'avrei fatta Al massimo E qui come sempre Il codice sconto È grammatica Zero Ma ragazzi Il peggio Deve ancora venire Perché ad un certo punto Così Dal nulla Un'ennesima Fake news Un'ennesima Trovata Per creare Per creare Visibilità Per creare Un po' Di hype È stata fatta Da una ipotetica Sorellastra Di Ilias Maluma Che Così casualmente Dal nulla Prende il suo telefono Entra nel profilo Del suo fratellastro E direttamente Dal Brasile Con furore Dalla favela Con furore Ci viene a dire Che cosa Alcune cose Shock Riguardanti Ilias Maluma A caratteri cubitali Infatti ha scritto Ilias È sparito Buongiorno A tutto Il pubblico Perché ovviamente Se vieni dal Brasile Il pubblico Mi sembra logico Il pubblico De Ilias Sono qua Sorellastra Da parte del padre Ieri sera Ilias È sparito dal nulla È uscito di casa E non è più ritornato Purtroppo in questo momento Sono in Brasile Quindi non lo posso cercare Perciò vi chiedo Gentilmente Se lo vedete per strada Avvisateci Che la sua famiglia In Italia È molto preoccupata E così Dopo la pubblicazione Di questo annuncio Shock Così ovviamente Casualmente Sono stati poi pubblicati Sempre sul profilo Di Ilias Alcuni video Alcune Non so come diri Però avvistamenti Shock Della serie XOXO Maluma Girl Perché qualcuno Qualche passante Qualche fan Che lo ha avvistato In piena notte Non so neanche dove Sinceramente Comunque insomma Lo hanno avvistato Mezzo Tutto Claudicante Oddio che termine Claudicante ragazzi Nel senso che Zoppicava Faceva cose strane Con una bottiglia Una cosa La maglietta tolta Insomma L'hanno visto Vagabondare così Per le strade Della città Insomma Viveva per strada Ecco Guardate No raga ma Gli smaluma F***a Iles No ma iles Fra iles Sì Sì certo Ci stiamo veramente Credendo Tutti quanti Ragazzi Anzi adesso qua Qui lo dico E qui lo nego Lori del santo Allora Se tu hai intenzione Di fare Un'ennesima Stagione Di Di The Lady Della tua web serie Ecco Secondo me Il Veramente Se cerchi Un malato immaginario Ecco guarda Hai trovato proprio pane Per i tuoi denti Con Ilias Maluma Io te lo consiglio Veramente Cioè Recensioni super positive Per quanto riguarda Fingere di essere malati Fingere di essere In qualche modo Appunto Dei malati immaginari Che insomma Molière Levate Spostate proprio Oddio ragazzi Che eresia Che sto pure a dire cose Di Molière Cioè vabbè Parliamo di Ilias Maluma Io faccio riferimenti a Molière Ma lasciamo perdere Vabbè comunque Tutto questo Tutte queste cose L'aggressione Il fatto di vagabondare In giro per la città Il fatto di avere ancora Questo occhio messo così Oh mio dio Aiuto Lascio i social di nuovo Perché poi È stato fatto anche questo Cioè Ancora una volta Venerdì farò un annuncio C'era scritto sul suo profilo Venerdì vi dirò questo In diretta E quant'altro E alla fine Indovinate un po' Che cosa è successo Venerdì In diretta Su Instagram E su Youtube E ovunque Ebbene sì Non ci interessava però Ilias Maluma Ha pubblicato Un'ennesima canzone Che questa volta Si chiama Tokyo Tokyo come Insomma La sua passione Sfrenata Per l'attrice Della casa di carta Che appunto Interpreta Tokyo Ecco Ha fatto una canzone Non l'ho sentita Non ho avuto Neanche il coraggio Di sentirla Ho semplicemente commentato Quel video in particolare Che ha fatto oltre 200.000 visualizzazioni In questi pochi giorni E che conta però E qua bisogna sottolinearlo E dirlo Proprio sottolinearlo In rosso Che ha oltre 50.000 Non mi piace Penso che abbia 3.000 mi piace 4.000 mi piace Quindi significa Che il pubblico Non è stupido Il pubblico Si Ha guardato quel video E ha detto Anche no Non ci piace Perché ormai In realtà Non piacere È proprio Il personaggio Di Ilias Maluma Nel senso che Finché faceva del trash Così spontaneo Tra virgolette Perché secondo me Il suo personaggio È stato un po' inventato In un certo senso Fa delle mosse studiate Sui social Un po' particolari Perché io sinceramente Non le farei Né ora né mai Non mi verrebbe mai in mente Di strumentalizzare Malattie Tumori Aggressioni E quant'altro Però ognuno È libero di Creare contenuti Appunto Più consoni A quello che è Il suo personaggio Sui social Quindi se questo È il suo personaggio Se questa è la via Che vuole percorrere Sui social Buon per lui Poi insomma Ognuno di noi Poi però È libero di smettere Di seguire Determinate persone O in qualche modo Prendere le distanze Da questi comportamenti Ed io sinceramente Mi sento Di prendere Largamente le distanze Dai comportamenti Di Ilias Maluma Almeno per quanto riguarda La sua presenza Sui social Detto questo Però ragazzi Il bello deve ancora avvenire Perché che cosa è successo Di fronte a questa ennesima Trovata Per creare hype Per la sua canzone Tante persone hanno detto Senti Adesso anche basta Però Cioè Hai rasentato un po' Il ridicolo E tra le tante persone Che si sono scagliate Contro Ilias Maluma C'è sempre lui Ice Boy Sì ragazzi Lo abbiamo visto Anche tempo fa Aveva fatto una diretta Nella quale Insultava letteralmente Ilias Maluma Perché aveva fatto Determinate cose Che non sono Per niente piaciute A nessuno Ebbene Ice Boy Gli dice praticamente Senti Anche basta Cioè Sei veramente Hai Non so come dirvi ragazzi Perché non trovo nemmeno io le parole Ma hai Toccato il fondo Basta Basta fare questi teatrini Che non interessano a nessuno Perché alla fine Le persone che poi vanno a guardare il video Per mettere Non mi piace E lo guardano per quello Non lo guardano perché hai una bella voce Perché la canzone è orecchiabile Perché ti stimano come personaggio Secondo me poi qua siamo di fronte anche a un troll Cioè una persona Che ci sta prendendo letteralmente in giro Detto questo comunque Di fronte a queste accuse Volte appunto a se stesso Da parte di Ice Boy Ilias Maluma Ha deciso di rispondere Per le rime Ragazzi Strana questa cosa Perché di solito Ilias Maluma Continua ad andare avanti Per la sua strada Per insomma Senza rispondere più di tanto A quelle che sono le critiche Gli insulti Eccetera eccetera Che riceve Ma stavolta Spiazza tutti E così decide di registrare Alcune stories Su Instagram Nelle quali parla proprio Di Ice Boy Dicendo che addirittura Sui social Ice Boy Dice determinate cose E poi dal vivo Quando lo vede Perché pare che ci sia È stato un incontro Tra Ilias Maluma E Ice Boy Insomma Ice Boy Faccia un po' L'amico Quindi Gli sorride Gli parla Boh ragazzi Guardate Comunque raga Allora di solito Non parlo mai Di questi argomenti Però comunque Quando vedo una persona Che mi attacca sempre Ma mi attacca proprio sempre Ogni volta che faccio Se devo pubblicare una canzone Ad esempio Ieri ho appena pubblicato la canzone È venuta questa personcina qua Ad attaccarmi A dire questa canzone No non mi piace Di qua Va bene Non ti piace Però non venire da me Io mi chiedo Ma queste persone Che cosa hanno in testa Cioè Non lo so io Ma quindi Tu vuoi dirmi Io Che cosa ti ho fatto di male Niente Già l'altra volta Mi hai visto in giro Mi hai salutato Anzi Hai sorriso Non hai detto niente Hai abbassato la testa E lo sguardo Ce l'hai Per terra Quindi è questa la tua dignità No la tua dignità È al cancello Boh Non lo so io E in più raga Sapete che cosa ha fatto Questa persona qua È andata a pubblicare Il mio chat privato Su Instagram Cioè io ti dico Non so Non ho veramente parola Proprio le parole Mi sono esaurite Perciò ti dico Che sei un fallito Sei un fallito Ecco di fronte a tutto Quello che ha raccontato Ilias Maluma Ovviamente Iceboy ha risposto Per le rime Dicendo ragazzi Ma che state a di Cioè Ilias Maluma Ma che sedi Ma che sei fuori dai capo Cioè no ragazzi Non ci siamo proprio Tant'è infatti che Iceboy pubblica Alcune stories Nelle quali ci spiega Un po' meglio La sua Relazione Non so come chiamarla Il suo rapporto Di non amicizia Con Ilias Maluma Guardate Come continuo a vantarsi Ci stiamo prendendo tutto Con le mie piccoline Te ti stai pigliando Solo gli insulti Ti stai prendendo Ti stai prendendo Di dislike Da tutta Italia Hai la canzone Con più dislike In tutta Italia Cioè Poi le tue viziatine Lo devi ancora capire Non esistono Cioè Tutte quelle fanpage Lì che tu nomini Nelle storie Mi hanno scritto a me In DM Ti pigliano per il Cioè Fatemi capire una cosa Adesso pure i capi Del circo Pure i pagliacci Più grandi Di tutta Italia Si permettono di parlare Di dignità Tu parli di dignità A me Tu parli di dignità A me Io te non ti ho mai visto Per tua fortuna Cioè Bene ragazzi Per citare una canzone Di Ricky Riccardo Marcuzzo Che io amo Ecco Perdo le parole Le ho perse veramente Perché non so più Che dirvi Su Ilias Maluma Sul suo comportamento Reprovevole Riprovevole Come se dice Non lo so Comunque insomma Veramente Penso che dopo Questa ennesima Trovata Becera Per sponsorizzare La sua canzone Direi che anche Basta Ecco Cioè L'ha fatto una volta L'ha fatto due È vero che non c'è due Senza tre Ma spero tanto Che non sia così Ecco Detto questo Però adesso Fatemi sapere Voi come sempre Qui sotto Con un commento Cosa ne pensate Se Anche secondo voi Ilias Maluma Insomma Te dico Fermate O se invece Amate il suo personaggio Le sue canzoni E quello che fa Il video può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao